Ora hai ultato Chi vince tra la mani d'ora? Vinco io a quanto pare Che palla aver flashato solo per lui però Speravo di aver preso anche Mokai Ma c'è l'ho preso Mokai solo che Mokai ha flashato per caso avete visto che ha flashato? Fare cagate Come è morta Xayah? Come è morta Xayah? Bene Vabbè Uno vale l'altro Aiuto Quella ulti su tre persone si è sentita tanto Certo le hai fatte tutte i masterili le kill Mokai Madonna santa è scoppiato Come un palloncino Come un balloons Mamma mia quanto tira giù le torri di Ana è qualcosa di Di no sense Manco c'ho il Nashor Non c'ho niente Eh oddio niente Come un rabato Non lo chiamerei niente Arreggio Woohoo Eeeh Io ci voglio giocare Zed contro Kali E io sono contro Malfight Minchia che palle Stai gemmi Perché devi fare il filo di Troia Per andare Cazzo di Tank Minchia Ma se puoi essere bastardo Puoi succhiare i cazzi così tanto Madonna che schifo il nostro team ragazzi V support Ma cosa Non posso manco doggiare Non potevo manco doggiare Questa è un altro Che cos'è V support Ma cosa cazzo è Ma poi look stop Ma cosa sto Ah spero sia Spero sia il contrario Vi prego Ditemi che è V-TOP Oh my god I'm so dumb I'm top Mamma mia Sta gente Sono donna fulminate Vi prego Ma mo divertiti Andare troppo un lux Potevo non invitare Non serviva a nulla Vado Per spaventare Oh sporchino Però se l'avessi fatta Di fretta Potevo sbagliarla Sarebbe andata ancora peggio Vaffanculo Fai un cuore! Non male che stupida. Meno male che sto... Ah, il culo arengaro. Però Bottray hanno vinto, no? La 5-2 sembra anche un po'. Urca, che danno, che è? Ah, ma c'è l'eclipse. Hai rotto il cazzo, Pyke. Te lo dico proprio con tutto il cuore. Hai rotto il cazzo. La balanza è la malattia. 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 Oh, yes! So good! Stupido gatto, muori. Muori male. Ma male, male. Ragazzi, non guardate. Fate finta di... Non avete visto niente voi. La balanza è la malattia. La balanza è la malattia. Inizialmente, non guardate. No, non guardate. La balanza è la malattia. Non guardate. Ma che cosa... I segreti che capite Ick sono scoperto. Un uccidio di spri. E non si può solo arrendere basta, sti cani? La tradizion è il corpo della sabbia. Ma che cazzo fa? Scusate. Perché non sono tolano I2 di R? TOI ARRENDETEVI! Bravo amici! Non contro la roccia però. si vabbè vabbè dai gg and please i'm shitting myself Dai ragazzi a fine sto game crank sto dio Vabbè diciamo che ho più LP di quando ho cominciato Quindi va bene così Anche se pochi Quando ho cominciato